Cari bilancia, il parterre de roi astrale si arricchisce di una new entry. Venere e Giove già vi favoriscono, quindi facilitano i contatti, la spedizione dei curricula, i colloqui, la vita di relazione, ma da giovedì arriva anche Mercurio a rendere piacevoli ma anche utili i viaggi, ancor di più la vita di relazione perché Mercurio rappresenta proprio gli scambi, potreste scoprire anche nuove affinità con la persona del cuore e se siete singoli cuccare come se non ci fosse un domani. Quindi sono giorni belli croccantini quelli che vi aspettano, lunedì e martedì in modo particolare, ma anche venerdì e sabato, quindi quattro giorni su sette, voglio dire tante grazie Sant'Antonio. È una settimana che vi può dare tante cose. Saturno vi costringe a tagliare un po' di rami secchi e Marte a impegnarvi più nell'arte formicatoria.